Se vuoi che la tua alimentazione ti faccia sentire leggero e pieno di energia, se vuoi provare il crudismo e la dieta vegana, se vuoi dedicare del tempo al tuo benessere per ricaricarti, allora stacca da tutto e partecipa al soggiorno raw di due giorni. Ogni anno i partecipanti a questi weekend ritrovano il piacere di dedicarsi al loro benessere e vivono un'esperienza che lascia il segno per sempre nella loro vita. Partecipa al soggiorno e vedrai che quando sarai sotto pressione, di corsa, immerso nella routine, tu continuerai a stare bene, sempre soddisfatto e pieno di risorse. Durante il soggiorno mangeremo solo un cibo crudo buonissimo e scoprirai come prepararlo, quando vuoi, in modo semplice e pratico. Così avrai sempre energia e rimarrai motivato a vivere la vita sana che desideri. Iscriviti subito e ci vediamo al soggiorno, naturalmente.